Cari amici interisti, care amiche interiste, cari amici anche tutti gli altri, buongiorno e bentornati o benvenuti sul canale. Allora, io mi ero illuso di poter parlare soltanto della partita dell'Inter di stasera e invece no, perché succedono cose, continuano a succedere e non sono mai tanto gradevoli, non sono mai tanto piacevoli, anzi queste qui sono abbastanza sgradevoli, molto sgradevoli, abbastanza una, ma molto molto anche altre, altre più importanti. Ma veniamo subito al primo argomento, io ho dato un'occhiata alle prime pagine, come faccio dei giornali sportivi, come faccio tutti i giorni, e ho visto un articoletto della prima pagina della Gazzetta, sulla quale vorrei puntare il dito, non la Gazzetta, l'articoletto, sul quale, ecco, sul quale. Allora, vediamo un po' cosa dicono. Ecco qua, la cosa di cui vorrei parlare, un attimo, soltanto un attimo, è extra calcio e riguarda Sinner e ciò che ha fatto la UADA, che come sapete, come saprete senz'altro, ha fatto ricorso contro la soluzione di Sinner nel caso doping. Allora, grazie ai nuotatori cinesi sportivi, ma ricorre contro Yannick. La UADA, grazie ai nuotatori cinesi. E ricorre contro Yannick che è stato assolto. UADA Sinner, ma che giustizia è? È la solita giustizia, ragazzi. Nessuna meraviglia. Questo fanno, fanno sempre queste cose. E le fanno contro gli sportivi italiani. Questa è una cosa che io penso da tanti anni. Lo vedo, l'ho visto accadere tante volte. Una emblematica è quella di Pantani. Ma non entriamo in questo argomento perché da romagnolo poi mi viene anche un po' il nervoso. Quindi pensiamo a questa cosa. Questa cosa che fanno, cioè i campioni italiani non danno fastidio finché non vincono. Quando cominciano a vincere, se poi diventano il numero uno del mondo, cercano in tutti i modi di trovare un appiglio per declassarli, per toglierli di mezzo. Questo è quello che penso io. Però, ragazzi, è una mia opinione. Voi ditemi cosa ne pensate al riguardo. Perché mi interessa di scoprire, soprattutto se sono un visionario io, o se magari, che ne so, ho ragione. Se siamo in tanti a pensarla così, magari va a finire che abbiamo ragione. Oppure no, non lo so, non lo so. A me sembra una cosa vergognosa. Cioè, scopri che i nuotatori cinesi sono positivi all'antidoping. Sono positivi al doping, come si dice, non lo so. E li grazzi. A Sinner viene assolto e fai ricorso contro l'assoluzione. Alla faccia dei due pesi e due misure, no? Due pesi, due misure. Va bene. Questa era la prima cosa che volevo segnalarvi e che mi ha fatto piacere che la Gazzetta dello Sport l'abbia scritto. Perché riflette esattamente quello che penso anch'io. Mi fa piacere per questo. Allora, poi c'era un'altra cosa che volevo dire. Tutto Sport, qui devo fargli una tiratina di orecchie a Tutto Sport, perché se ne viene fuori con una frase che non mi è piaciuta per niente. Con una frase, un bel titolo, bello grosso, che non mi è piaciuto per niente. Allora adesso ve lo faccio vedere. Inter e Milan, ora basta. Scusate, in che senso ora basta? Io capisco lo spirito juventino che trova un attimo lo sfogo per poter attaccare l'Inter e il Milan, ma come sarebbe a dire ora basta? Se avessero scritto Inter e Milan, ora basta, avrebbe significato che l'Inter e il Milan hanno detto ora basta. Ma così siete voi che dite all'Inter e al Milan ora basta. Ora basta cosa? Primo, la malavita organizzata è presente praticamente in tutti gli stadi d'Italia e probabilmente anche del mondo. Non lo so, non lo so, non mi permetto di esagerare. Quindi probabilmente ce l'avete anche voi in casa, nella vostra curva o quello che è. E poi, ora basta, cosa c'entra l'Inter e il Milan? Cosa c'entrano? Se nella curva ci sono dei malavitosi che commettono reati, cosa c'entra l'Inter e il Milan? Cosa c'entrano? Andiamo a vedere cosa pensano altri. Ecco cosa dice l'Inter. Quello che dice il Milan sono affari del Milan e dei milanisti che non mi riguardano. Io dico quello che dice l'Inter. Inchiesta Ultras, dall'Inter nessun commento, ma c'è totale disponibilità a collaborare con gli inquirenti. A me sembra che la disposizione, l'atteggiamento dell'Inter sia impeccabile, o no? Giusto? Vediamo ancora, andiamo avanti. Ecco qua. Qui manca la prima parte dell'articolo, che l'ho tratto da fcinternews.it, nella quale prima parte si dice che l'Inter e il Milan sono considerate nell'inchiesta partilese. Ma, sottolinea la Gazzetta dello Sport, come vi sto leggendo, la Procura di Milano ha comunque avviato quello che tecnicamente è un procedimento di prevenzione nei confronti di Inter e Milan, dopo il blitz che ha spassato via i vertici delle due curve, per le attività illecide e le infiltrazioni della criminalità. Cosa rischiano le società? Secondo la Rosea, il rischio è quello di finire in amministrazione giudiziaria, qualora non dovessero riuscire a dimostrare di non avere alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato. E vabbè. Allora, quello che mi premeva di dire è questo. Come sarebbe a dire? Non esisteva, non esiste più, non è mai esistita la presunzione di innocenza, scusate, secondo la quale io sono innocente fino a prova contraria? Se c'è qualcosa di illecito, è l'accusatore che deve dimostrare che io sono colpevole, non io che sono innocente. Ma qua dice, rischio di finire in amministrazione giudiziaria qualora non dovessero riuscire a dimostrare di non avere alcun legame, eccetera, eccetera. Ecco qua, adesso basta parlare di queste cose perché già non mi piace parlarne. Ma mi tocca farlo perché magari se no qualcuno se ne viene fuori dicendo che cerco di evitare certi discorsi. Io non evito niente. Cerco di evitare discorsi che mi annoiano. Quello sì, quello sì. Comunque questa cosa mi pare che andasse detta e quindi l'ho detta. Veniamo alla partita di stasera che è molto più divertente da pensare. La formazione. Sommer in porta. Bastoni devrai pavar in difesa. Mi sembra ottimo. Finalmente, diciamo così, finalmente, fra virgolette, fra virgolette. Simone Inzaghi ha deciso di tenere a riposo a Cervi, finalmente, e di far giocare devrai centrale. Pavar a destra, come è giusto che sia, e Bastoni a sinistra. Carlos Augusto, Cialanoglu, Dumfries, Mkhitaryan, Zelinski a centrocampo e all'attacco Taremi Arnautovic. Non so se rendo l'idea. Ebbè, è un po' rivoluzionata la cosa. Sette cambi, praticamente. Ha fatto sette cambi per affrontare la Stella Rossa di Belgrado. Probabilmente gli altri rimarranno nei paraggi perché non si sa mai. In fin dei conti la Stella Rossa è una squadra che sta dominando in Serbia. Sta dominando il campionato. Insomma, è forte. Vince sempre. E' forte. Stradomina. Ecco, quindi non dico che il campionato serbo sia equiparabile alla Serie A. Non dico questo, però comunque è un segnale. E poi è in Champions. Voglio dire, non è una partita della parrocchia o scapoli ammogliati. Comunque sempre Champions. Se è in Champions vuol dire che qualcosa vale, giusto? Noi non dobbiamo avere paura di nessuno e non abbiamo paura di nessuno. Io almeno non ho paura di nessuno. 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 Però, però, sempre un occhio, un'attenzione, perché come ti distrai, pum, soprattutto in Champions, ti fulminano. Taremi Arnautovic. Gran coppia. Adesso vedremo. Io sono convinto che Arnautovic faccia bene. Faccia bene. Non sarà Turam. Certamente non è Turam. Anche perché vedo che nella collocazione, nel posizionamento, ecco, dei calciatori effettuato da FC, internews.it, scusate, vedo che, ve lo faccio vedere, ecco qua, vedo che Arnautovic è spostato in attacco a destra. Non so se sia una scelta dell'allenatore o se è semplicemente un posizionamento buttato là così tanto per fare qualcosa. Arnautovic a destra, a taremi a sinistra. Boh, non lo so, non lo so. Io ho sempre visto Arnautovic a sinistra. Per cui, magari sono esperimenti e io, sapete come la penso sugli esperimenti, nelle partite importanti, meglio non farli, penso io, però, però, non sono mica io in Simone Inzaghi e lui ne capisce più di me. Mkhitaryan e Zelinski. Grande. Mi piace. Mi piace tutto. Mi piace tutto. Carlos Augusto a sinistra, che così si riposa un po' di Marco, che non mi è sembrato poi tanto stanco, però, però, questo turnover si può fare. È una cosa che, se non la fai con la Stella Rosse, con chi lo vuoi fare? Con l'Arsenal. Cioè, lo fai con le squadre che pensi di poter battere più facilmente che con le altre. Va bene. Allora, tutto a posto. Io adesso la chiudo qui perché ho passato praticamente tutto il tempo a parlare di quelle altre cose, che avrei preferito non farlo. Stasera si gioca, stasera si spera di vincere e stasera si spera che i calciatori non siano così stanchi perché non sono stati titolari nelle loro squadre, non tutti perlomeno, una buona parte non è stata titolare nelle loro nazionali, quindi non ha la stanchezza del non aver riposato. Perché anche questa cosa volevo precisare. Quando io parlo di stanchezza, non parlo di stanchezza che giocano perché mi è stato fatto notare, ma come? Al trentacinquesimo non potevano essere già stanchi. Non sono stanchi perché hanno giocato quella partita lì, sono stanchi per tutto il riposo che non hanno potuto effettuare prima. È la preparazione atletica. Tutte cose fondamentali che ti tolgono dal corpo la fatica, con riposo quindi, e poi dopo ti ristrutturano con la preparazione atletica. Queste cose non sono state potute fare, non si è potuto farle, scusate, lo scrittore che ha in me si ribella di fronte agli errori grammaticali, anche i miei. Quindi quando parlo di stanchezza mi riferisco a questo, non a quella presente ma a quella pregressa. Ok? Allora, ragazzi, 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 parlo a quelli dell'Inter, ragazzi, come fa Marcel Jacobs? Paraocchi su tutto il resto e sguardo fisso in avanti, concentrati e mi raccomando questa sera voi che, soprattutto quelli che consideriamo le seconde linee, avete, voi avete la possibilità di dimostrare che non siete proprio da seconde linee, ma potreste essere anche da prime linee. Quindi non perdete l'occasione, non gettate al vento questa occasione, perché è un'occasione che io credo sia importante. quindi polso duro, caviglia forte, respirazione, inhalazione col naso, espulsione con la bocca, adesso sto scherzando, sto scherzando. E comunque, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettete un like, lasciate un commento. mi raccomando, che per me è di importanza capitale, veramente, perché se non cresce il canale, chi non cresce si afflosce, se non si cresce, se non si cambia, se non ci si evolve, si muore. Il canale, non io, il canale. Ok, a salute Burdelli e forza Inter, soprattutto stasera, forza Inter.